Luca, ci vedono la chiama, andate un po'. Siamo qua. E' trovata? Ma che cosa vuoi andare perché c'è il corso? Ma che cosa vuoi essere lo sbagliato? Ma che cosa vuoi essere lo sbagliato? Ma che cosa vuoi dire? Ma non mancano anche gli schiesti trasparenti. Ma che cosa vuoi andare? Ma che cosa vuoi andare? Ma che cosa vuoi andare?